Buongiorno! Mi è da stare a dire... Passata... Questa allergia mi sta ammazzando ragazzi... Come state? Tutto bene? Scrivetemi un po' nei commenti come state, cosa fate, perché, per come... E dai che mi va di leggere un po' di cose! Oggi parliamo di fisci! Come pesce? Sì, come pesce! Fisci, ok? Vuol dire un paio di cose... La prima, molto semplice, letterale... Pesce, di pesce, quindi... That fishy smell, quell'odore di pesce. C'è una mosca che se la prendo, guarda... Ma possiamo definire fisci anche qualcosa di losco, di strano, di sospetto? The whole thing seems... Fisci, ok? Tutta questa cosa, tutta questa magari situazione, mi sembra sospetta. C'è qualcosa che non mi quadra, ok? It's fishy, it's fishy, it's fishy, it's fishy! There's something fishy going on here, ok? C'è qualcosa di sospetto che sta succedendo qua. Sospetto! Sospetto! There is clearly something very fishy in this business, ok? C'è chiaramente qualcosa di sospetto, qualcosa che non quadra in questo business qua. Sospetto! 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 Sospetto!